Ciao Pat! Ciao Gia... Ma voi avete spento il condizionatore? Eh... Avete spento il condizionatore? Ma sì, non è che andavano in un'altra parte Non c'è bene No c'è il condizionatore Bangkok Skyline Tontro C'è una città Cosa c'è qui? Coconut 3 giorni i think i can make water and coconut milk so guys, this is a coconut farm Grazie a tutti. 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 Come galleggiare sull'acqua putrida. Quando vuoi comprare qualcosa di ferme? Ciao. Ciao. Alex. Un bel po' di acqua putrida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.